vi do il benvenuto come così padrone di casa in questo dipartimento eh e poi forse interverrò molto brevemente come curatore eh ringrazio più di tutti ovviamente Anna Dolfi e Pietro Cataldi che hanno accettato di eh passare una parte del loro della loro estate eh a leggere eh la critica viva e e ce ne parleranno ora l'idea è di eh avere due interventi di una ventina di minuti dei nostri ospiti illustri poi una breve due parole di Luciano eh e e forse anche mie e poi magari un po' di discussione eh io eh in per introdurre dirò semplicemente questo che il merito del libro è tutto di Lucio perché eh è stato lui a rompermi le scatole lungamente e e posso anche dire esattamente da quando cioè da quando è morto il mio maestro Remo Cesarani e io scrissi un ricordo che piacque a Lucio e Lucio disse ma eh quella generazione straordinaria andrebbe studiata e e andrebbe contestualizzata e eh dovremmo fare un libro originariamente a quattro mani io ho terrorizzato all'idea di fare un libro a quattro mani con Lucio ho detto no ma coinvolgiamo un po' più gente insomma facciamo un libro a più mani e e lui aveva proposto subito anche il titolo la critica viva allora quando accettai alla fine questa proposta ero sicuro di tre cose la prima che il titolo avrebbe scatenato le peggiori ironie eh nel migliore dei casi qualcuno avrebbe detto che è uno simoro eh siccome la critica notoriamente dalla crisi di segre all'eutanasia di lavaggetto eh proprio viva eh c'è qualche dubbio che sia eh fino ad arrivare all'humour noir in stile onoranze fubnebri taffo per cui appunto la critica viva ma non per molto eh oppure Curreri e Pellini che si sono eh affiliati al partitello di Renzi e cose di questo genere qua eh la seconda cosa o addirittura Pellini e Curreri e Tatori che hanno causato la morte di Pietro Citati che effettivamente è venuto meno nel mentre che preparavamo questo libro. La seconda cosa di cui ero sicuro è che avrei passato qualche anno a litigare con Lucio sul canone perché siamo amici da trent'anni ma le nostre idee di di letteratura di critica sono molto distanti e eh inevitabilmente avremmo avuto così delle delle difficoltà a stabilire il numero eh e i nomi eh dei personaggi che avremmo accolto in questo libro eh naturalmente il risultato è discutibile ma quantomeno è plurale nel senso che alla fine siamo riusciti a fare dei compromessi a me piaceva molto quando erano quarantaquattro l'idea dei quarantaquattro gatti ma poi sono diventati cinquantadue perché se no non riusciamo a metterci d'accordo. La terza cosa di cui ero certo è che eh il libro non sarebbe uscito prima del duemila venticinque che sarebbe stato difficilissimo gestire i cinquanta collaboratori e che sarebbe caduto nel più totale disinteresse. Ecco le prime due previsioni si sono pienamente avverate eh appunto eh litigi con Lucio e eh profusione di eh di ironie. La terza no nel senso che i cinquanta collaboratori sono stati straordinariamente puntuali e abbiamo colto da subito da quando iniziamo a proporre questi nomi un vero interesse e proprio un senso di di necessità cioè eh ci sembra ci sembra di aver intercettato una cosa che che molti avevano voglia di fare e anche il fatto che siate qui oggi così numerosi e ringrazio in particolare quelli che vengono da fuori Siena forse dimostra che ricominciare a parlare della critica di questa generazione di critici eh ha un senso e ha qualcosa da dire ancora a noi oggi e su questo però ora ce lo diranno meglio Anna e eh Pietro e do subito la parola a Anna Dolfi ringraziandola ancora. Bene grazie naturalmente sarei curiosa di sapere quali sono gli otto nomi che si sono aggiunti e su quali ci sono state le discussioni me lo posso anche immaginare ma comunque eh vi propongo una mia lettura di questo libro che peraltro eh e capirete perché eh mi sono letta sul pdf perché è uscito un po' all'ultimo momento e non sono riuscita a recuperare il cartaceo ragione per cui mi scuso se seguo un tracciato scritto ma dunque allora la critica viva e di questo parliamo come alcuni di voi sanno almeno per quanto riguarda la poesia della prima metà del novecento ma non solo naturalmente credo nella storia e nelle generazioni ed è su quest'ultimo sema ovviamente che mi soffermo e non perché ovvio ogni voce individuale non abbia o non acquisti nel tempo un tono suo proprio e inconfondibile da tutti gli altri ma perché la storia e visto il libro che mi trovo qui a presentare la scuola lasciano inevitabilmente più di una traccia per sintonia o opposizione nei singoli e nel clima di un'epoca dunque potete capire perché mi sia piaciuta questa lettura di una generazione a partire dal titolo a dispetto delle differenze per quanto riguarda la critica nei nomi almeno prescelti da un'altra generazione quella nata alla fine degli anni sessanta o proprio all'inizio dei settanta a cui appartengono Luciano Curreri e per Luigi Pellini brillanti ideatori del volume su cui oggi ci confrontiamo un'aria nuova attraversa l'Europa e l'America proponendo ai migliori perché naturalmente ci sono tutti gli esclusi alcuni dei quali forse migliori non erano altri forse sì eh si muovono nel campo della cultura e della letteratura a partire dalla ricostruzione post bellica con una varietà di approcci prima di quel momento impensabile il rigore ormai raggiunto dagli studi di linguistica con la messa a frutto della lezione di Sassiore e Jacobson e di filologia basti per l'Italia a nome del solo Contini la facciarsi poi tramite la mediazione francese dello strutturalismo e della semiologia il lento nascere e diffondersi delle teorie della ricezione in primi siaus la possibilità di ibridare e poter scegliere tra Freud e la canna l'accorgersi di potersi muovere ormai liquidate le autarchie nazionali con curiosità e profitto dopo la lettura di cursus e Auerbach su un terreno comparatistico la facoltà infine di poter discutere di politica di poter interpretare la storia e rapporti tra struttura e sovrastruttura senza incorrere nei rischi di un tempo offrono alla generazione nata tra il venti e il quaranta e con una accentuazione significativa nello scorre degli anni già che un ventennio è lungo e niente succede in vano una varietà di scelte possibili e la facoltà di teorizzarle di approfondirle nel quadro di una cultura infine libera e trasnazionale certo le categorie di appartenenza nella maggior parte dei casi il mondo universitario creano talvolta con variazioni legate anche alle città di provenienza e alle storie e temperamenti individuali dei rallentamenti nell'affrancamento non è un caso che più mobile e spregiudicato rispetto al canone accademico sia il mondo dell'editoria delle riviste engagé con rappresentanti di punta non a caso qui antologizzati ma la vitalità il dialogo possibile tra letteratura esistenza in forme più o meno esibite è non solo accettato ma con il passare degli anni finisce per diventare quasi un requisito ineliminabile ineliminabile è necessario a cosa? Non solo a garantire il dialogo cultura società che si sente sempre più urgente a far uscire lo scrittore il critico dalla torre eburnia e in comunicante della sola attenzione allo stile ma a dare agli intellettuali in senso lato un ruolo a garantire e il libro che qui presentiamo nella prova una trasmissione al futuro già che la vitalità di cui si parla la critica viva e so ora appunto che il titolo è stato lanciato da Lucio funziona mi sembra sia a parte subietti vale insomma per chi l'ha praticata o ha tentato di praticarla con coinvolgimenti spesso trasversali e a parte obietti permettendo che si possa parlarne come di qualcosa che a decenni di distanza continua ad avere un senso in quest'ultima accezione che ha a che fare con il persistere con il durare mi pare sia soprattutto da intendere il titolo del libro visto che a parlare di un mondo che date alla mano a dispetto della vitalità del pensiero e dei risultati scientifici raggiunti è già quanto a vita reale scomparso o sta lentamente scomparendo senza appunto eh allusioni eh però appena il venti per cento degli antologizzati è ancora in vita eh a parlarne appunto dicevo è una generazione diversa fatta talvolta da più giovani compagni di strada tal altra da lievi diretti o indiretti che fanno trasparire una durata che si nutre non solo di lascito intellettuale ma in certi casi perfino di memoria di presenza fisica e ove si pensi al significato originario etimologico del termine di una sorta di affetto giacché c'è posto ogni tanto perfino per il rimorso il rimpianto per le sottolineature elative il rimpianto scusate oppure c'è posto per le sottolineature elative o diversamente per un filo di insofferenza nato dalla frequentazione i cinquantadue autori dei profili mostrano dunque non solo di conoscere bene la bibliografia completa della voce a loro assegnata compito non facile vista la ricchezza e complessità dei titoli da delineare in un numero assai contenuto di battute ma di avere individuato nei confronti di quella il punto sul quale si fonda un possibile legame soggettivo qualcosa da elevare a cifra di metodo e da additare ad exemplum per giustificare appunto che si possa parlare di critica viva ovvero critica ancora presente produttiva di risultati meritevole che su quella si continui ad esercitare studio ed indagine inutile dire che ogni lettore del libro esperto nel settore nel tentativo di pensare a una propria pseudo genealogia potrebbe divertirsi a indicare qualche eccedenza nelle scelte o a segnalare alcune mancanze ma si tratterebbe di un gioco fin troppo facile che mostrerebbe in sostanza credo il fraintendimento dello spirito del libro che è quello di tracciare un canone certo condiviso dai due più cinquanta visto che due pezzi sono stati fatti dai curatori ma che sia un canone appunto anche oggettivamente condivisibile un canone che salvo minimi scostamenti può essere riconosciuto e accettato da ognuno di noi visto che tutte le voci prescelte hanno avuto un ruolo e sono state almeno in parte essenziali nel fare di noi quel che siano e che possono essere magari proprio grazie alle suggestioni e indicazioni di lettura che questo libro ci ricorda ancora utili nell'indicare quello che forse abbiamo scordato e quello che grazie all'ausilio di altre letture o lezioni avremmo potuto e che potremmo ancora essere proprio nella scelta dei 52 nomi che poi si raddoppiano in 104 sta il ruolo dei due curatori decisivo nonostante il tentativo quasi di non farsi vedere ridottissima è l'avvertenza finale e loro stessi non firmano come dicevo che una sola voce a testa conoscendoli però almeno un po' si può intuire che si sono mossi in fruttuosa e magari anche qualche volta conflittuale collaborazione cercando valori anche in campi non necessariamente a loro vicini mostrando competenza tutte le scelte sono giustificabili e equilibrio anche nella distribuzione di quella che in questi giorni si potrebbe chiamare con il termine di par condice o una regola di correttezza mostrando al loro attivo una sicura capacità di storicizzare evitando in positivo e negativo prese di posizione partigiane mostrando anche proprio nello scegliere la vitalità contro la museificazione la fiducia speranza per un ruolo possibile della letteratura nella società odierna che di eticità ha abbondantemente bisogno e per la funzione veramente educativa che la scuola e l'università hanno talvolta svolto e che dovrebbero avere a forziori in futuro un libro come questo è un omaggio non solo a 52 studiosi e alle biblioteche e università dove hanno passato la vita ma al mondo degli studi e della ricerca e al suo significato al fatto che niente avviene per caso e che quello che siamo oggi anche come intellettuali e critici si spiega tracciando delle storie riviando a delle fonti riconoscendo debiti individuando tracciati facendo insomma già che del mondo della critica si parla una storia della critica viva citando maestri e per alcuni almeno citando critici scusate che per alcuni almeno e in un certo senso per tutti sono stati maestri insomma memori dell'insegnamento ad deterrendum di valerie ricordato da benjamin l'uomo odierno non coltiva più ciò che non si può semplificare e abbreviare la scelta è stata quella di non seguire le estetiche ahimè di moda della dimenticanza della storicizzazione della semplificazione critica dello spontaneismo dell'improvvisazione della decostruzione memori forse ove si sostituisca critica ad epica ed è quello che faccio ogni analisi di una determinata forma critica deve occuparsi del rapporto in cui essa si trova con la storiografia dell'insegnamento benjaminiano che voleva il lettore alla ricerca di scrittori uomini che li consentissero di leggere il senso della vita l'aver affidato il lavoro a 52 collaboratori e non deve essere stato semplice sceglierli tutti bravi devo dire e provenienti da molteplici paesi e da diverse formazioni e università garantisce nella complessiva uniformità del volume delle variazioni di tonalità che ne rendono gradevole e possibile una lettura anche per esteso come quella che io forzatamente e piacevolmente mi sono trovata a fare così pure molto felice di idea di far precedere ogni scheda dalla scelta di un breve passo dell'autore che serve non solo per dare avvio ma qualche volta specie nei casi più felici per indicare quasi fosse una misa nabim un metodo e una demarce critica significativa è ogni volta la scelta del passo che molto ci dice dell'estensore della voce visto che probabilmente diversamente dai giudizi puntuali e complessivi quasi sempre condivisibili proprio su questo punto ogni lettore informato come dire ognuno di noi può miserare la diversità del suo angolo visuale e a partire da quella sia pur per raggiungere un risultato finale sostanzialmente analogo il privilegio personalissimo di un diverso cammino che avrebbe potuto compiere ma cominciamo ad aprire il libro e a percorrerlo visto il tempo che abbiamo a disposizione veramente molto velocemente già dall'indice appare chiaro mi sembra come i primi nomi antologizzati presentino ancora una critica che è più facilmente riassumibile in una formula poi anche grazie alla loro lezione le strade si fanno più complesse e variegate non è un caso che la quasi statuaria importanza delle prime personalità sia legata a precocissime esperienze europee pluridisciplinari a precoci intuizioni si pensi appunto per cases alla necessità di affrontare il problema dell'estetica nel suo rapporto con la totalità del reale e naturalmente alla fusione di competenze diverse che permette per esempio a folena mai dimentico della semantica spitzeriana di creare nessi nessi inscindibili tra lingua società e letteratura e qui aggiungo tra parentesi che è molto interessante che questi profili ci fanno vedere non solo la critica viva nel rapporto con chi sta parlando di questi critici ma anche dei critici con i loro maestri perché sempre si dice alla scuola di spitzer piuttosto che a quella di folena piuttosto che a quella di battaglia a quella di continui spesso evocato la possibilità per la valle di essere contemporaneamente grande contemporaneista e medievista filologo semiologo storico delle culture indicando una strada nuova e originale per lo strutturalismo e la semiologia italiana comune a tutti loro cioè a questi tre che in fondo fanno da battistrada e a quelli che seguiranno la lontananza ormai infine aggiungo io dal crocianesimo che ancora persisteva più o meno nascosto però chiaramente nella precedente generazione e da uno storicismo di marca ottocentesca erudita che pure aveva avuto i suoi meriti ma che in fondo andava in qualche modo superato soprattutto naturalmente da una critica impressionistica e estetica che era durata troppo a lungo per avventurarsi su nuovi cammini anche grazie a una formazione marcatamente europea o all'aver lavorato in gran parte all'estero e qui veramente per ragioni di tempo taglio tutto quello che avevo scritto ma il caso di Baratto di Delia Frigessi di Franco Fido di Franco Ferrucci definito il più americano dei nostri critici di Celati e della sua pratica della traduzione di Edoardo Saccone con i suoi studi innovativi sul romanzo del novecento di Teresa dei Lauretis con il suo contributo fondante ai gender studies e la qui di Paolo Valesio più eccentrici rispetto a tutti questi risultano Domenico De Robertis con il suo lavoro sulla tradizione e sulla dinamicità dei testi o Dante Isella che ha dato un contributo fondante alla filologia d'autore col portare avanti con quella che deve viene definita operosità lombarda edizioni e commenti non può sfuggire naturalmente al lettore attento come siete anche tutti voi che proprio su questi due ultimi nomi De Roberti Sisella pur negli espliciti riconoscimenti che non mancano mai a nessuno dei cinquantadue però quasi quasi unico nel volume si avanzino possibili e garbatissime riserve a Domenico De Robertis perché nel quadro di scelte discusse sia pur perseguite con profonda convinzione ha usato una scrittura difficile che presuppone la conoscenza degli antifatti sì che i suoi libri sono leggibili quasi solo dagli specialisti a Dante Isella perché non sempre lo dice Scaffai i valori letterari si lasciano inquadrare con gli strumenti i parametri gli obiettivi della filologia d'autore ma questo nel riconoscimento naturalmente dell'importanza globale dello studioso e del suo lavoro ben diversa magari anche per l'estensore naturalmente della scheda l'adesione alla critica di cooperazione di Adelia Noferi originale studiosa di temi applicatrice di una personalissima psicosemiocritica sugli autori del passato e del presente o alla diversissima osmosi visto che gli studi erano vicini ma al di là della amabilità personale non potevano esserci metodi più diversi l'osmosi tra letteratura e storia perfino sociologia praticata da Sergio Romagnoli non a caso nato germanisca come cases storico della cultura perfino di una precoce anticipazione dei visual studies studi visuali in qualche modo praticati anche dal non omologabile al precedente Giovanni Pozzi filologo comparatista storico letterario eminentemente formalista che viene definito figura per certi versi a quella di Mario Prats che si guadagna lodi incondizionate perché nelle sue pagine si può rilevare la velata natura di critica viva così pure ampie nodi vedete che distingo quelli che sono più lodati ma perché no cioè voglio dire chi scrive una scheda ha diritto pure di manifestare le sue predilezioni ampie lodi sono tributate a uno scrittore appartato e veramente importante come Sebastiano Timparano sempre alla ricerca con vis polemica una prosa affilata tra psicanalisi e critica testuale degli errori e delle alterazioni dei testi o a Luigi Blasucci maestro in vari modi di tanti dei collaboratori al volume di cui si ricordano gli studi le analisi splendide le parafrasi impeccabili il coinvolgimento etico la sicurezza dei giudizi impliciti e espliciti l'elegante understatement la semplicità e la chiarezza capite che il peso è evidente ma perché no dico della sintesi critica e storiografica fino a condividerne fino in fondo a distanza di tempo le scelte forse per compensare qualche dubbio giovanile si legge perciò sbagliavamo di grosso noi studenti dei suoi seminari in normale a inizio anni 90 a riprova di come il tempo permette a volte di capire con la lantananza la forza e il senso di una lezione e di come la prossimità rivendicata in estremis appunto adesso possa giustificare e dare anzi umanità all'uso dei superlativi che per esempio in questo caso sono in effetti parecchi analogo plauso per Ezio Raimondi studioso finissimo con la perspicuità dello stile le scesellature perfette della proposta didattica di cui si ricorda il fascino quanto a Camporesi ad essere convocati sono addirittura in due il filologo lo storico della lingua l'esegeta il commentatore e l'antropologo ambedue autori di titoli memorabili che ne fanno uno dei più raffinati prosatori italiani del secondo novecento un narratore tanto fastoso visionario da riuscire in un fantastico di tipo felliniano che ancora ci insegna per lei a Ritter Santini femme savant circondata da una suggestiva aria beniaminiana appunto si percorrono i titoli quanto a Cesare Segre talento precocissimo a caratterizzarlo saranno lavorace curiosità l'eccezionale varietà nel tempo di proposte metodologiche di autori che hanno fatto un imprescindibile punto di riferimento per gli studi di semiotica e narratologia un attento custode della dimensione etica della letteratura supposizione di scetticismo per le derive soggettivistiche del costruzionismo e per la destoricizzazione della tradizione operata dalle poetiche del postmoderno si troverà anche Guido Guglielmi ci si sofferma infine scusate la rapidità sulla dimensione storico filologica e sull'importanza di una svolta stilistica dalla forte tensione storicizzante impressa agli studi da Pier Vincenzo Mengaldo di Gianluigi Beccaria si rammenta il giovanile strutturalismo antilibera litteram la passione per le forme del grande stile la diffidenza verso ogni manifestazione di pensiero debole o di neo ermeneutica di ogni avanguardia o irrazionalismo per Barberi Squarotti critico militante direttore del progetto monumentale unico del grande dizionario della lingua si parla di pagine magistrali e rivoluzionarie e dell'eccezionale disponibilità verso ogni forma di esperienza letteraria presente l'interesse naturalmente per il sentimento tragico della vita di Marco Cerruti e agli autori e temi a lui cari dell'utopia a cui ha dedicato una delle più intense e aperte raccolte di saggi di Vittorio Spinazzola si ricorda invece la complessità irriducibile che l'ha portato a occuparsi perfino di fumetti e di paraletteratura guidando l'attenzione del pubblico e al pubblico ai contesti sociali. Ne stupisce che dall'interno diretto della scuola milanese come prima per Barberi e Peccaria di quella torinese ovviamente se ne sottorini il luogo di riferimento rappresentato per molti per oltre 60 anni per molti critici studenti addetti all'editoria e al lavoro editoriale in genere. Anche di Azzorrosa viene sottolineato l'interesse per la dimensione europea eh del romanzo l'esperienza operaistica puntando chiaramente su un'opera come scrittori e popolo a cui è legato indissubilmente il suo nome. Non bancano la torinese D'Oglio il pisano madriniani che riscrive la tradizione dei vincitori attraverso gli sconfitti tra gli outsider e mi passerete questo termine o semi outsider naturalmente incondizionate lodi per Cesare Garboli un critico della raffinata cultura letteraria con un talento narrativo purissimo dallo stile morbido denso avvolgente lontanissimo da quello asettico e ortopedico a cui ci ha abituati l'accadema e un plauso esplicito per Piero citati divenuto avventariero del possibile delle e dell'impossibile esploratore di mondi reali e ipotetici che ci ha dato libri scritti con un linguaggio insieme chiaro ricco di segreti leggero e profondo scorrevole musicale. Lodi esplicite anche per un universitario che non ha mai lasciato la dimensione eh militante come Luigi Baldacci. Di Grazia Cherchi si sottolinea lo spirito di parte la rivalutazione di opere dimenticate di Antonio Faeti la scrittura della critica parlata e i corsi di letteratura per l'infanzia. Non manca sempre Torinese un comparatista attento agli spazi dell'anima come Lionello Sozzi accanito indagatore di testi esempio di trasversalità tematica accanto a lui si trova per banale successione cronologica perché la differenza è abissale un diversissimo Fausto Curi creatore e fiancheggiatore della vanguardia che ha inteso la storia della letteratura come critica della società di cui Fastelli ammira la coerenza pur rilevando l'intransigenza di una eh modernità letteraria tagliata in maniera intransigente e lucida ma qui taglio facile prevedere la l'importanza attribuita a Umberto Eco scrittore onnivoro scrittore enciclopedico dalle vastissime competenze che ha proposto un nuovo modello del sapere e si è opposto ai sostenitori del postmodernistomo filosofico e del pensiero debole parimenti fondante la lezione di Romano Luperini e dei suoi studi legati alla proposta di un fondamentale scontro tra simbolo e allegoria anche il mondo della scuola e delle antologie a quella dedicate è ricordato con forza a sempre a chi vi si è speso in modo nuovo e originale si parla dunque di Lidia de Federicis e dell'impegno sempre curioso e eclettico diremo Cesarani instancabile mediatore culturale che con i suoi studi ha configurato una funzione Cesarani della scrittura critica che funziona come eredità per un futuro pensato anche per la sua profonda umanità con un certo ottimismo anche oltre la propria fine non manca la lezione di Mazzacurati del suo sostanziale impegno di critico metilitante dei suoi percorsi avvolgenti fondati sulla umoralità quanto al lavoro sul testo di Stefano Agosti e alla tua tesi importante insieme storico culturale e semiotico linguistica su cui si innerva il suo progetto critico non ci si esime dal segnalare che qualcuno può trovare la sua impostazione datata o addirittura strata intellettualistica pur rivendicando il peso della sua interrogazione critica sui rapporti tra linguaggio e significazione quanto a serpieri rassicuratevi sto arrivando alla fine perché i cinquantadue stanno scorrendo uno dei massimi interpreti di Shakespeare insuperata la sua lettura del Macbeth Don Elliot Conrad il suo richiamo alla centralità del testo ha coinciso con la riflessione sulla teoria della parola teatrale e le eccezionali traduzioni drammatiche di Orlando si accettua la lotta alla semplificazione la convinzione che la critica possieda una forza conoscitiva irrinunciabile e l'importanza di una ricerca accuminatamente precisa di Rosanna Bettarini lettrice mirabile messa in rilievo la padronanza eccezionale dei mezzi della stilistica e la dottrina nell'esperienza del commento dove i testi del canzoniere sono preceduti da la strisce di erudizione ove nel superamento del confine tra cappello e saggio il dialogo è sempre tenuto tra la singola lirica e tutto l'insieme quanto a Gilberto Lonardi il vecchio il giovane e altri studi su Montale è indicato da 40 anni come un punto fermo e imprescindibile della critica montaliana e eh giustamente direi ci si sofferma sullo stile consapevole e affascinante la scrittura saggistica raffinata e dinamica attirata dai problemi più generali più che eh dall'esigenza di aspiegare il singolo testo. Lonardi viene definito critico dalle scoperte continue inattese talvolta imprescindibili di cui sono preziosi perfino i dubbi avanzati a lezione e questo vi dice ancora una volta che la la frequentazione a volte ha nutrito anche questi profili la cui dedizione a propri oggetti di studio la profondità dell'interpretazione è un'eleganza nella lettura e arduo trovare eh nel panorama critico di oggi alle emozioni dell'avventura della interpretazione ed è l'ultimo nome eh è legato invece il ricordo di Mario Lavagetto un lisea del romano della grande tradizione narrativa borghese che ha creato nelle zone opache del testo nei piccoli indizi e nei modi di una critica apofatica eh la ricerca e il modo di proteggere le opere dalla la stessa interpretazione la la sua compresa eh perché questo escurso che escursus da quale ho tagliato quasi tutto compresi i nomi degli estensori delle singole schede che qui erano nominati intanto per far vedere che il libro l'ho letto davvero visto che mi ha richiesto un certo tempo poi per dirvi che oltre che averlo letto davvero mi ha interessato sul serio eh per finire visto che il tempo sta eh scadendo prendo una citazione che mi ha colpito che non è affatto legata a un critico che mi sia particolarmente vicino ma eh che è un dato di fatto trovata in qualche modo eh particolarmente eh rivelatrice della natura di questo libro viene dall' l'introduzione ai critici italiani del novecento di Luigi Baldacci laddove eh il pezzo eh su Baldacci si apre proprio con questa citazione che devo dire eh è molto bella mh questa citazione eh inizia con i vivi e i morti allora abbiamo detto vivi eh per loro fortuna e anche giovani per lo più sono i cinquantadue estensori delle schede morti sono l'ottanta per cento degli autori eh studiati quindi vivi e morti è veramente il discorso di dirlo che ci siamo tenuti scriveva Baldacci assai più sui morti che sui vivi è cosa che potrà avere più di una giustificazione prima di tutto siamo contrari a scattare delle istantanee sul lavoro in corso dei vivi manca la possibilità di chiudere un bilancio di decantare una prospettiva si finirebbe fatalmente per coinvolgere questioni di metodo e per parlare dei movimenti più che delle persone ecco mi sembra che questa citazione strappata al contesto spieghi bene eh la natura di questo libro dove in fondo oltre a parlare di metodo e di un metodo e di cinquantadue metodi si parla anche delle persone eh da chi hanno imparato dove hanno lavorato con che iter hanno costruito il proprio curriculum e quindi eh mi sembra abbastanza giusto il la chiusura di quella citazione di eh Baldacci il poeta come il critico quanto al critico tutto lo spinge a parlare di quel libro e quel libro lo spinge a parlare di tutto ecco forse eh possiamo dirci che aver parlato dei critici è stato un modo per indicare delle scelte che magari sono state in qualche caso anche conflittuali ma che devo dire appunto sono state eque e sostanzialmente condivisibili non c'è neppure un giudizio né lativo né critico che mi abbia dato fastidio cioè che abbia eh provocato in me una reazione cioè mi sembra che eh i cinquantadue estensori hanno tentato di delineare quelli che l'ha spinti a parlare di quel critico e a indicarlo in qualche maniera come un esempio di critica viva. Grazie. Sono grato ad Anna che ha fatto vedere per tutti e due che il libro l'abbiamo letto quindi ora io mi esimo posso esimermi dal superamento di questa parte dell'esame eh la collega ha dimostrato e questa cosa della crisi della critica effettivamente eh ci riguarda ci coinvolge anche i più giovani di noi sono nati che c'era la crisi della critica quindi diventa uno stato e non può più essere considerata un'emergenza però è vero eh che chi si occupi di queste cose è giusto abbia dei dubbi sullo statuto della critica e credo che ogni volta che si scriva un pezzo che appartenga al mondo della critica anche se non si ragiona esplicitamente sul modo in cui quel pezzo va a collocarsi nel mondo della critica uno sappia che sta ragionando anche della crisi della critica sta collaborando ad approfondirla o sta facendo un piccolo tentativo per resistere interrogarsi cioè ogni gesto critico nell'età della crisi della critica è anche un gesto diciamo metacritico un libro così un libro metacritico per eccellenza per una volta le nostre la nostra cattiva coscienza anche una parte di buona coscienza che nonostante tutto abbiamo viene posata sul tavolo e devo dire subito che a me il titolo è piaciuto molto anche perché possiamo rovesciare i termini e possiamo dire viva la critica come augurio come auspicio io la prima volta che l'ho letto nel pdf ho immediatamente sentito questo che era un auspicio non si stava dicendo che i critici nati un secolo fa o poco meno erano più vivi di noi che siamo oggi qui perché se si fosse voluto dire questo certo un poco un poco però se si fosse voluto dire questo avremmo già definito la nostra situazione come una situazione di epigoni e se ci definiamo epigoni la crisi la critica non è in crisi è finita come è noto dopo gli epigoni c'è il nulla io penso che non dobbiamo fare la mentele e questo non è un libro di la mentele la crisi della critica può muovere la mentele può muovere la ricognizione di tutto ciò che abbiamo perso per strada senza rendersi conto che spesso attribuiamo alla crisi della critica cose che abbiamo perso su terreni diversi il terreno del coinvolgimento in prospettive sociali e politiche di trasformazione la fiducia nella nella perfezionabilità del mondo è questo che abbiamo perso non è tanto la critica la critica dentro un orizzonte di grandi sconfitte storiche fatalmente tende a diventare un'attività separata specialistica di persone che cercano magari in un territorio definito e confinato di proteggere una possibilità di significato questo è stato per molti secoli a un certo punto diciamo tra la fine di roma e la rinascenza il destino degli intellettuali crisi della critica non c'è dubbio ma ben altro era in crisi in quei secoli mentre invece i bilanci sono molto importanti qui la cosa originale credo che meriti di di dirlo per quello che ha a che fare con il genere letterario è che questa non è una storia della critica benché porti un contributo importante a un'attività che sempre meno è considerata importante negli studi universitari e che invece un'importanza ce l'ha che è la storia della critica perché la storia della critica se non è semplice stretta storia della critica ma è storia facendo ragionamento sulla critica agli atti sul rapporto che tra gli studi critici e la società gli studi critici e la letteratura si si possono si possono ricostruire e la storia della critica diventa uno dei modi migliori di interrogare il sistema letterario per capire profondamente i movimenti delle ideologie i movimenti sociali le trasformazioni del ceto intellettuale rinunciare a ragionare su questo per avere a che fare solo con i testi è questo feticcio del testo significa aver rinunciato a collocarsi dentro un orizzonte che è quello di una società più grande di quello della semplice torre degli addetti ai lavori questa però non è una storia della critica ma è un modo di ragionare della critica molto particolare che a me è ricordato subito il modello dei poeti italiani del novecento di vengaldo quella antologia del settantotto se non ricordo male in cui vengaldo ha scelto di disporre gli autori non per tendenze per gruppi per movimenti come si è soliti fare nelle storie della letteratura ma in ordine cronologico non sulla base della data di nascita come qui invece avviene ma sulla base della data di uscita del primo libro importante o del primo gruppo di testi importanti in qualche caso questo che cosa significa è una rinuncia alla storiografia letteraria io credo che sia il tentativo di fornire dei materiali plurimi molteplici anche monadici cioè vuol dire interrogare la storia della critica dal punto di vista della sua crisi voler scrivere oggi una storia della critica da un punto di vista di ricostruzione da una prospettiva forte probabilmente sarebbe sembrato ai curatori una un gesto belletario perché per scrivere una storia della critica da un punto di vista forte non ci può essere una crisi della critica la storia della critica forte si può scrivere nel momento in cui la critica è forte si sente forte è un codice dominante in un momento di crisi l'interrogazione che si può fare questa interrogazione monadica a più voci il che naturalmente comporta dico tra parentesi qualche difetto uno dei difetti è la tendenza e l'oggettiva di tutte le voci personalmente naturalmente non dirò perché non dirò quali ma a una decina almeno di questi 52 io avrei voglia di scrivere una stroncatura e mi verrebbe molto meglio che una ricostruzione ma una stroncatura piena non perché non riconosca il merito ma perché perché insomma perché ci sono dei maestri che vanno stroncati che vanno stroncati di cui bisogna dir male per ricavarne qualcosa di utile qui invece questa possibilità non c'era i curatori si sono avvalsi tra le facoltà stroncatorie del silenzio e ci sono delle mancanze che si sarebbero potute evitare ma non poi così importanti e comunque non è questo che conta quello che conta è l'esemplarità la figuralità se posso dirlo di questi 52 e da un punto di vista della figuralità cioè della prefigurazione di un disegno bastano sono sufficienti e gli accostamenti che nascono poi da questo modo di essere accostati sono particolarmente interessanti e gustosi dobbiamo tenere presente intanto che barano non sono vent'anni ma sono ventuno sia ben chiaro che se si va dal venti al quaranta gli anni sono ventuno non non potete non ce la fate a farci passare l'idea che sono vent'anni di io sono ventuno tant'è che se volessimo farlo per il primo ventennio del secolo sarebbe un problema perché si deve andare dal millenovecento che notoriamente è un anno dell'ottocento fino al diciannove se no le cose cominciano a non tornare sarebbe interessante farlo indietro qui si prospetta nell'introduzione di farlo per il ventennio successivo io credo che o vi fate pagare dai viventi per essere presenti ed è un'idea non male una colletta una col chi ci vuole essere tra quelli nati tra il quaranta e il sessanta anche tra il sessanta e l'ottanta hanno meno soldi in genere tra l'ottanta e il duemila ne hanno pochissimi sono sono ricchi di famiglia però paga ed è ed entra a far parte del libro però sarebbe ancora più interessante andare indietro i venti che mancano all'inizio del secolo e poi si vede però è chiaro che qui gli accostamenti sono molto strani perché intanto la cronologia intera mette all'inizio persone che sono nate quando si stavano firmando gli ultimi trattati di pace della prima guerra mondiale e si conclude con alcuni nati quando era scoppiata la seconda sono due generazioni molto diverse cioè chi si è formato durante il fascismo ha fatto in tempo a fare la resistenza o a non farla ha fatto in tempo ad essere fascista a cambiare idea e chi invece è nato quando il fascismo stava per cadere e il fascismo è finito che aveva tre anni quattro anni non ha saputo neanche che cosa fosse sono proprio due generazioni diverse poi l'accostamento così cronologico mette insieme le varie università e i varie le varie zone geografiche italiane forse una leggera preferenza del della prevalenza del centro nord a occhio una leggera prevalenza del centro nord una lieve preferenza prevalenza di maschi 44 8 però no in parte giustificato dal tempo sì in qualche caso io devo dire che avrei avuto dei nomi che si potevano rendere meno forte lo sbilancio però insomma però con molto piacere a questo proposito ho registrato che invece tra i curatori curatrici delle schede il riequilibrio è avvenuto largamente più che raddoppiate le donne coinvolte a scrivere le schede cioè sono un terzo circa un terzo abbondante insomma è un segno no che dalla critica viva a noi siamo in crisi ma qualcosa c'è un principio inclusivo che sta crescendo molto molto secondo me significativo anche non leggo quello che scrivo però ora ce la farò ah ecco il fatto che se mettiamo insieme tutti i 52 e ci si chiede quanti tra gli studiosi che oggi sono incardinati all'università e forse anche tra quelli non incardinati non hanno avuto come maestro o maestra a un titolo o l'altro uno di questi 52 cioè questi 52 sono stati maestri o co maestri e co maestre di quasi tutti quelli che si occupano di letteratura e anche questo definisce l'importanza la loro rappresentatività però la cosa che mi ha colpito di più mi è piaciuta di più mi convince di più è il metodo Auerbachiano che avete scelto per la costruzione delle schede non avete imposto come si sarebbe dovuto fare in una enciclopedia questa è tutt'altro che un'enciclopedia perché i curatori sono stati liberi di seguire un ordine diversissimo nell'esposizione qualcuno ha fatto un'esposizione piuttosto da voce di enciclopedia e secondo me non sono le voci migliori qualcun altro ha fatto invece una lettura fortemente saggistica fortemente perfino simpatetica dialogica e a volte sono le voci migliori quindi avete lasciato una grande libertà sull'impostazione non è la voce di enciclopedia mentre avete imposto due cose mi sembra due una di partire da un brano del critico considerato un piccolo brano e l'altra di confinare la trattazione della voce a un numero di caratteri voi avreste voluto dodicimila se non ricordo male qualche volta si è arrivati a quindici sedici ecco ma che è uno spazio molto piccolo potremmo dire micro saggio sono sei sette cartelle cioè è un micro saggio sono due obblighi molto forti soprattutto perché una delle sei o sette cartelle la devi dare al tuo oggetto di studio è un metodo verbacchiano cioè uno dei metodi diciamocelo pure che si è rivelato tra i critici del novecento più efficaci più forti no quello di mimesis e ci sono stati dei curatori di voci che hanno fatto davvero della piccolo brano riportato il click l'occasione per scatenare un pensiero che dal particolare dal dettaglio ricostruisse un sistema cioè guardando trattando il critico come se fosse un autore e i testi del critico come se fossero testi d'autore il che di per sé un modo di valorizzare la critica di riconoscere il fatto che la critica soprattutto la critica migliore fa parte del sistema dei generi letterari ed è a sua volta letteratura non solo la storia di De Sanctis ma tutta la critica fa parte del patrimonio letterario ed è una delle ragioni per cui la storia della critica è come la storia della lirica o la storia del romanzo la storia di un genere della letteratura ma partire da un frammento testuale vuol dire aver imposto per così dire la rivendicazione di una centralità del testo scritto non delle vite delle carriere perché dall'altra parte del frammento testuale in cui un critico mostra le sue idiosincrasie mostra un suo punto forte ma mostra anche un suo tic una sua metafora ossessiva qualche volta è stato perfino osservato qui c'è già tutto questo critico c'è tutto io devo dire fossi uno di quei critici presterei un po male quindici righe magari ha scritto dieci libri qui c'è già tutto no ci sono però una centralità del testo che va a detrimento della centralità delle carriere questo è molto apprezzabile in tutte queste voci le carriere di questi critici sono decisamente sullo sfondo come se una volta superato questo momento la cosa importante che noi studiamo non è questo a differenza di quello che si sarebbe fatto in una voce di enciclopedia è decisivo il metodo è decisivo lo stile cioè il modo in cui un metodo viene praticato e questo attraverso anche un piccolo frammento può essere studiato noi lo sappiamo che tra le questioni oggi in gioco è la riorganizzazione o diciamo pure la semplificazione estrema dei generi della critica cioè la critica fruiva in passato del privilegio di poter contare su vari generi il saggio l'edizione di testi il commento la storiografia letteraria la recensione e altri se ci pensiamo alcuni di questi generi sono oggi decisamente in crisi o sono ridotti rispetto allo spazio che occupavano in particolare il saggio il saggio il genere il genere principe della critica no i grandi saggi di De Sanctis i saggi di Croce i saggi di Russo di Momigliano stroncabili volendo però insomma saggi oggi una delle ragioni per cui forse vale la pena di preoccuparsi per quello che chiamiamo crisi della critica è la riduzione dello spazio del saggio come genere critico al posto del saggio c'è il pepe cioè c'è il caso di studio c'è l'oggetto ben fatto confezionato per la SN confezionato per la VQR confezionato per ridurre al minimo il tasso di soggettività di chi scrive e invece la critica è un genere letterario a pieno titolo perché la soggettività di chi scrive e in questi 52 si vede piuttosto bene deve essere sempre fortemente coinvolta e nel saggio è il momento in cui da Pascal in avanti da Montaigne in avanti l'io ha il diritto di essere coinvolto ha il dovere di essere coinvolto e di interagire nella consapevolezza che senza un soggetto che si ponga con forza davanti all' oggetto l'oggetto diventa debolissimo si estenua diventa un piccolo sfizio specialistico ma se non c'è un progetto se non c'è un soggetto forte rischia di essere molto debole anche l'oggetto però la paura del soggetto forte poi naturalmente la paura del conflitto la paura del disaccordo se io dico che un sonetto è formato da 14 in decasilla vi facciamo conto non sia caudato strano ma insomma qui non rischio nulla non ci sarà un valutatore un collega un commissario di concorso che potrà dirmi ma se io per esempio dico che il sonetto arrivato l'anno 1800 è morto e anche se Foscolo continua a farli per un bel po' è morto e basta tant'è che Leopardi i sonetti non li fa se non in cose del tutto secondarie fa un controsonetto come l'infinito poi verrà riscoperto molto tempo dopo facciamo non dico che io pensi questo e faccio un esempio rischio di trovarmi un metricologo appassionato di sonetto che mi ecco questi 52 hanno praticato tutti i generi della critica e non hanno avuto tantissima paura perché avevano il privilegio di essere più garantiti da un sistema di complicità di un sistema anche un po' corporativo in cui il conflitto non finiva mai con l'essere o finiva meno con l'essere pagato da precarietà interminabile eccetera una domanda che mi piacerebbe fare ai ai curatori una delle tante domande che mi piacerebbe fare ai curatori come ha funzionato il manuale cencelli nella divisione nell'organizzazione del libro cioè come ve li siete come vi siete spartiti ognuno poteva sommare ognuno dei due aveva diritto di censura ognuno dei due aveva cinque buoni veto che poteva spendere sulle proposte dell'altro perché in questo caso conosco luciano meno ma ho già capito da quello che mi è capitato di leggere di lui che nel questo caso per lui non ho nessun dubbio i cinque veti uno se li sarebbe fatti sparare contro con cinque proposte assolutamente false per bruciare i cinque veti dell'avversario e poi avrebbe tirato fuori a quelli a cui teneva davvero cioè avete giocato perché è interessante il fatto che abbiate fatto questa scelta in due cioè che alle spalle di quello che era il potere più forte degli organizzatori del libro ci fosse un dialogo un conflitto e infine un'ultima considerazione che non è una domanda però mi piacerebbe che diceste qualcosa di questo le due cose che rischiano di essere danneggiate da questo modo microsaggio ricostruzione a tante voci è il passo dei critici più fortemente storicizzanti cioè i critici sistematici i critici che non danno non sono centometristi ma maratoneti quelli rischiano di uscirne sempre un po' peggio perché il microsaggio sul maratoneta è meno rappresentativo se io dieci secondi per riprendere un corridore per uno che corri cento metri mi bastano se io ho dieci secondi per parlare di un maratoneta non so se scegliere la partenza saggia lo scatto a metà gara il momento di crisi lo sprint finale e e il fatto che i microsaggi abbiano secondo me attenuato nell'insieme e l'unica cosa attenuato nell'insieme né forse in sei pagine si poteva fare diversamente il fatto che ciò che hanno un po' in comune tutti i 52 chi più chi meno è l'essere appartenuti a una stagione in cui c'era un sistema di grandi ideologie grandi ideologie vuol dire anche metodi critici forti decisi e ogni posizione era esplicitamente il più delle volte qualche volta implicitamente un prendere posizione sulle grandi ideologie sui grandi metodi critici sulle teorie tutti questi studiosi che sono stati anche tra loro quindi in conflitto e anche a volte esplicito duro qui in quest'arca mi sembrano tutti un po' ricomposti come immagino che il leone e l'agnello fossero nell'arca di Noè dovendosi tutti salvare dall'alluvione intervenuta quasi quasi è meglio che non si tirino morsi e che non si graffino a vicenda però nella realtà storica si sono morsi e graffiati quasi tutti con quasi con quasi con molti degli altri e questo nei microsaggi monadici non poteva comparire ecco e per me alla fine in fondo forse la cosa che mi è mancata di più leggendo anzi una delle pochissime che mi è mancata bene scoccano i miei 20 minuti e io sono Ligio darei la parola grazie grazie davvero a Anna e a Pietro darei la parola a Lucio parli con questo microfono che quello non si muove capito grazie allora grazie a tutti ragazzi e ragazzi di essere là per me siete tutti ragazzi e ragazze l'avete capito sono in un certo senso all'origine appunto di questo lavoro nel senso che ecco avevo una lista molto più lunga che partiva proprio dal dall'ottocento da De Santis e andava su fino agli anni 50 e questa la facevo leggere sui miei studenti in Belgio perché se qui la la critica sta male quando tu insegni o tenti di insegnare qualcosa della critica italiana anche in corsi di teoria e storia della critica sai bene che in un paese straniero le cose andranno peggio quindi come dire poi c'è stato penso un mediatore un nostro carissimo amico comune che si chiama Stefano Lazzarin che dice sai Luciano ha avuto questa idea ne ha parlato con Pierluigi per Luigi volevamo fare da tanti anni una cosa insieme e penso che si è scelto come dire il campo da gioco in cui ci si poteva in un certo senso far più male ma anche divertire a partire da quelli che erano i nostri come dire investimenti personali anche emotivi dell'affetto di cui parlava Anna prima cercherò di rispondere così velocissimamente senza dare come dire al mio intervento un aspetto organico perché sarebbe sarebbe ingiusto dovremmo parlare tutti oggi tutti 52 53 quanti siamo allora il metodo a warbacchiano sono d'accordo per la centralità del testo del critico del saggista io io penso di averlo indicato fatto e non con un maratoneta Marco Cervuti è tutto tranne un maratoneta al contrario però poi abbiamo lasciato libertà cioè la libertà anche di qualche morso c'è secondo me la libertà per esempio rispetto a quella che voi indicavate come citazione iniziale c'è evidente nel senso che non tutti sono stati ligi alla citazione iniziale c'è gente che ha fatto la citazione iniziale finale c'è gente che ha continuato a fare citazioni due tre volte nel testo allora cosa abbiamo detto cassiamo non cassiamo l'idea era quella ma se loro sono riusciti a dire abbastanza bene tutti mi sembra una cosa facendo qualche citazione in più perché cassarla di più abbiamo incontrato entusiasmo optando per questa soluzione e abbiamo cercato di cavalcare tempi che erano relativamente stretti e di fatto ci siamo riusciti tutti insieme avendo spesso e volentieri i messaggi che ritornavano non dico come un letto alla posta è così però insomma velocemente quindi anche quella cosa della della come dire dell'accettazione tra virgolette di certe cose che possono essere perché è purcosa criticata all'interno del volume sono secondo me al servizio però della costruzione del volume non so se mi sono spiegato cioè nel senso che o si faceva così osserva davvero di andare al 2025 e secondo me il volume alla fine usciva peggio più brutto no e dopo tanti anni quando invece adesso tutto sommato siamo qui che iniziamo a godercelo quanto meno esiste con tutti i refusi che restano eccetera lodi sì poi là ce ne sono e messano le poste trolloa come si potrebbe dire in francese cioè nel senso non so se vi ricordate di quel film warm bodies no scusate il mio inglese fa schifo anche francese peraltro ma c'è la storia d'amore fra un ragazzo che è uno zombie o lo sta diventando sempre di più no e una ragazza no normale umana e si attraggono no e soprattutto lui è attratto da lei e per difenderla dagli altri zombie dice fai come faccio io no e lei all'inizio fa dei movimenti troppo disarticolati e lui gli dice no così è troppo allora qual era il nostro compito a un certo punto sì di dire così è troppo ma neanche di non proteggere come dire chi avevamo vicino e che magari aveva spesso volentieri 10 15 20 anni in meno di noi e poteva magari dire delle cose in maniera relativamente diversa quindi questo l'abbiamo accettato questo l'abbiamo fatto e questo c'entra anche secondo me con la volontà nostra di diciamo condividere uno studio più sulla generazione che sul canone cioè secondo me questo è uno studio che funziona più se parliamo di generazione generazione al limite che di canone perché c'è alla base di questo lavoro un plurale collettivo era un canone aperto non a caso collega prima parlava di materiali plurimi molteplici a me sembra tanto che qui ci sia una critica viva moltiplicata un po' come in quel testo moltiplicato che tanti hanno richiamato no all'interno di questo percorso nelle varie schede allora io volevo finire al 39 poi c'era un critico che non cito che era noto nel 40 no sto scherzando vabbè dai ridete un pochettino e quindi si è arrivati al 40 ma io avevo fatto il calcolo che hai fatto tu anche perché l'idea mia è sempre di andare avanti cioè nel senso che magari io non sarò bravissimo però lavoro e l'idea è quella di lavorare e condividere e lavorare con gli altri e quindi sostanzialmente i calcoli almeno quelli li ho imparati a fare al 39 mi volevo fermare otto donne su 52 è vero sono pochine però è davvero il frutto del tempo nel senso che alcuni ci hanno già criticato per la scelta delle donne delle critiche eccetera io devo dire che abbiamo fatto anche lì una scelta che è che ha quantomeno tentato di abbracciare una donna che non sia solo tra virgolette te lo dico eh un prodotto no ma rappresenti piuttosto attraverso queste otto figure no anche qui una pluralità perché se c'è vero che c'è una Lidia di Federici c'è una d'olio certo qualcuno mi ha detto alla fine cercando di fare anche queste cose ci sono magari troppe persone del centro nord e magari di Torino poi però uno mi ha scritto manca Marziano Guglielminetti cioè anche questo vedete sono rischi cui ci si espone c'è quello da fare cioè nel resto sono cose che però andrebbero come dire in qualche modo bypassate dicendoci e dicendo questo quando voi inviate per esempio a uno dei due curatori eh che Luigi o Lucio che sia di che ah bello però manca questo è indicato un critico e beh lì sta proprio l'errore forte cioè nel senso che noi qui abbiamo giocato non solo inizialmente per i quaranta poi quaranta quattro gatti ma per i cinquantadue c'era un vecchio film americano cinquantadue gioco muore alla fine abbiamo detto ci fermiamo qui no dobbiamo in qualche modo però cosa abbiamo fatto abbiamo veramente tentato con questa scelta di non arrenderci a un solo critico poi se volete io vi dico che se non so per esempio io avevo anche proposto lo posso dire qui e per lì non dirà no ma non solo perché c'è l'Anna Giacobbi ma poi si è parlato di Giuliani che è un'altra cosa ancora poi un attimino è venuto fuori Franco Croce Niccolò Mineo Giampaolo Biasin Emilio Pasquini Renato Barilli anche per altre cose vabbè Giuliano Minetti citato Prete Rack e tanti altri cosa vuol dire questo vuol dire che noi abbiamo fatto una selezione sicuramente ehm anche se la maggior parte di voi magari adesso avendo firmato anche solo un pezzo all'interno di questo libro e con noi potrà dire effettivamente forse ripensandoci anche 54 56 o 60 eh ci si poteva postare no però l'idea era proprio quella a un certo punto di di stare come dire in tempi che erano per noi entusiasti positivi quasi tutti ha reagito subito e quando noi indicavamo qualche piccola cosa da fare ehm era qualcosa di accettato quasi di di scontato c'era un bel dialogo vivace subito così eh certe volte ho imparato molto in questo facendo questo lavoro con Pierluigi e lui una volta mi ha detto eh ho capito subito che era serio perché non mi ha mandato quel paese in genere fra di noi ci mandiamo quel paese eh anche peggio però in quel caso lui mi ha detto senti non farai mica così con tutti e è stato bello perché ho imparato subito innanzitutto era sincero perché stavo anche con gli amici con Pippo Traina con con Dalmas Davide con con altri stavo veramente eh rompendo un pochettino le scatole no e trovando il pelo nell'uovo quando la cosa da apprezzare di più era una sorta anche di di spontaneità di forza che si produceva voglio dire in seno a un torrente in cui potevi prendere una scivolata e la scivolata magari adesso è rimasta concretizzata nel refuso o magari in un errore che potrebbe essere anche un orrore ma ma poco importa perché alla fine comunque siamo riusciti a portare a casa quantomeno il volume è un risultato ehm ecco in questo senso volevo dirvi che quando si condivide un'idea un input una lista eh con un amico con un collega beh innanzitutto dovete farlo in seno a un'amicizia che già accettazioni di ben altre coordinate professionali e umane eh per dirla la moda vecchia cioè dovete già avere un retroterra no un background no come diceva e l'importante però quello che resta è il lavoro per esempio io lo pensavo inferiore come molle di lavoro e invece quando ci siamo messi davvero a rileggere tutto a cercare di uniformare e abbiamo visto di fatti che certe cose una ripetizione una un della invece di delle no cioè sono rimaste queste cose perché non sembra ma alla fine il volume fa 360 pagine e se pensate che questa era un'idea proprio discussa quasi al bar tra virgolette all'inizio fra due amici beh c'è di chi essere fieri nel senso che poi alla fine eh quello che secondo me importa davvero è il collettivo cioè nel senso che voi direte beh l'avete comunque firmato voi beh sì con con quanto abbiamo fatto il lavoro era da firmare e poi forse per gli anni che ormai abbiamo potevamo farlo ma soprattutto però abbiamo cercato di portare tutti con noi ci sono per esempio due persone che sono marito moglie che hanno voluto lavorare insieme e beh noi li abbiamo presi uguali cioè ci siamo messi a dire ma cos'è questa cosa lui non riesce a andare di corpo se l'altro non gli fa la cosa con le prugne cioè capite tutte queste cose qua le lasciate fuori e tirate avanti per un tipo di di lavoro che va assolutamente servito ecco in questo senso penso che si sia stati almeno bene insieme che ci si sia divertiti più di quanto per lui ci dica che ci si sia arrabbiati non è vero e soprattutto che si sia imparato parecchio perché al di là delle lodi non è vero che questi critici non li abbiamo come dire poi detti anche nella loro complessità si diceva prima di avalle che sono due ma anche camporesi lo dice bene anche riccardo non davanti sono due omo duplex no titolo di vittorio roda lui viene dopo è del 41 però per dirvi che come dire siamo stati ecco fedeli in un certo senso a questo tipo di di tracciato di ritmo poi è normale che certe cose voglio dire ci siano scappate che certe cose magari non subito abbiano magari quel valore di storiografico di storicizzazione più o meno forte anche in seno a un'idea della della critica come storia per esempio della cultura storia delle idee però è stato interessante questo secondo me noi in qualche modo abbiamo dimostrato insieme qui che quelli che pensano come direbbe uno storico delle idee non sono tanto gli uomini o i critici sono i secoli sono i decenni sono come dire dei momenti della storia a cui noi prestiamo come dire le mani no il lavoro la comunità cui apparteniamo la comunità cui teniamo la comunità che creiamo anche questa ecco questo secondo me c'è nel libro e non è una cosa detta così per dire e l'entusiasmo con cui la maggior parte della gente ha aderito e seguito il progetto dall'inizio alla fine secondo me la dice abbastanza lunga poi è vero c'è anche chi ha detto a un certo punto avete anche lasciato andare e avete dato da fare la scheda all'allievo è vero però non avessimo mai fatto qualcuno ci potrebbe dire ma perché cosa c'è cioè in una istituzione che funziona da sempre perdonatemi in codesto modo morsi e graffi compresi voi non fate parlare un allievo di un maestro ma ragazzi allora forse il rischio era proprio quello c'era il contrario quindi noi abbiamo detto beh se ci sarà qualche caso faremo anche quello un'altra cosa che non ha facilitato certe volte le cose in questo senso è stato che insomma non tutti quelle tutte le persone colleghe colleghi che fossero che noi abbiamo invitato hanno all'interno dell'entusiasmo pur di cui dicevo prima ed è vero ve lo ripeto hanno accettato cioè ci sono persone che accetto non accetto poi accetto lascio stare buchi no e tutto questo è andato avanti comunque per un annetto e voi sapete che in un anno per linea dio non siamo stati a fare solo il curatore di questo volume ma abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto insomma per il nostro lavoro per la nostra vita quindi penso che alla fine come dire tenuto conto di tutto quello che tutto è esagerato comunque di parte di quello che è stato detto dall'anna e dall'altro amico siamo conosciuti appena adesso con il pietro no devo dire che io io potesse adesso di nuovo dare l'imprimatur anche con con le con i refusi con le con le cose che adesso so potrei correggere ma io lo darei cioè nel senso voglio dire che il libro secondo me sta in piedi quanto basta anche al limite ogni tanto per fare la figura dello zoppo del claudicante no è una specie di gastone che magari chiameranno tone per risparmiare il gas visto che dobbiamo risparmiare energia e questa è una vecchia battuta 1924 poi magari qualcuno mi dirà di chi però ecco questa questa è l'idea in questo libro secondo me voi leggete la scheda di un critico difficile che restate solo su quel critico cioè è vero che la maggior parte sono morti ed è vero che si parla di morti e vivi l'abbiamo detto però al tempo stesso noi sappiamo da un lato che con derrida e altri chaque fois unique la fin du monde e quindi cioè voglio dire quando sparisce uno di noi quando scompare uno di noi scompare un pezzo di vita quello che lui ha rappresentato in termini critici per alcuni è veramente sulla lunga gettata tanto no anche di quelli che non sono maratoneti centometristi eccetera ebbene io devo dirvi la verità che alcune cose no alcuni alcuni personaggi voi entrate non è che si parli solo di quel personaggio si parla di tutto un contesto in alcune schede io trovo che ci sia parecchia storia non è vero che la storia sia così tra virgolette azzerata per uno come me in particolare così attento come dire da sempre alla civilizzazione nel senso di civiltà di cultura di storia della cultura storia senza la storia non vai da nessuna parte io penso che ci siano molte schede nutrite di questo tipo di agganci storici e via via di disegni contestuali no abbastanza ricchi comunque per cui spesso volentieri critici e critiche che non ci sono sono citati magari altrove in lista eccetera e questo è significativo perché cosa vuol dire vuol dire che anche chi ha fatto la scheda sa che quel critico lì non sta da solo da qualche parte no perché quello è il principio invece del medaglione no della lode a senso unico certo magari dirà bravo però al tempo stesso dice ok bravo per questo e questo e altre volte come avete indicato ci sono effettivamente non solo e sempre degli elogi ma anche delle sfumature insomma delle fellure defracture dove si insinua un giudizio non negativo elegante sempre ma tutto sommato no giusto ecco del resto perché non essere eleganti no cioè voglio dire adesso anche se uno nasce in periferia ma perché non essere eleganti anche soprattutto di fronte a una una crisi a una mutazione a una morte ma a maggior ragione perché non essere elegante ecco io semplicemente direi che ogni tanto noi forse poi là con i nostri amici collaboratrici amiche collaboratrici amici collaboratori possiamo esserci così concessi qualche lode ma al tempo stesso diciamo più per come dire anche servire il ricordo di persone che noi anche se morte pensiamo vive io non so se a voi capita ma spesso volentieri leggendo dei libri di critici e critiche che purtroppo in me sono scomparse e scomparse mi sembra insomma di farmi un po' vivere grazie scusate allora come da copione Lucio anziché cinque minuti come previsto ne ha parlati venti e quindi ora eh taglierò sull'intervento mio vorrei però precisare una cosa visto che so fare pochissime cose ma una la so fare bene cioè a correggere le bozze di refusi in questo libro non ce ne sono Lucio Lucio usa il termine refuso come elegante visto dice lui di essere elegante come elegante sinonimo di cazzate sì ci possono essere delle cazzate ma di refusi non ce ne sono eh qualcuno ci sarà però può però sicuramente può ecco eh no volevo eh condivido da punto di vista così dialettico e diverso moltissime delle cose che ha detto che ha raccontato che ha raccontato Lucio e eh uno dei motivi di litigio è stato proprio questo io avevo pensato questo libro come fatto rigorosamente da non allievi e rigorosamente da persone più giovani di noi anche parecchio più giovani di noi fatto da trenta quarantenni e non di più e poi invece eh abbiamo coinvolto gente anche parecchio più anziana di noi e abbiamo appunto coinvolto degli allievi che parlano dei maestri a posteriori sono d'accordo con quello che ha detto Lucio cioè sono d'accordo che non si deve eh leggendo questo libro spero che chi lo leggerà lo farà non vada a fare eh il bilancino degli aggettivi perché noi non abbiamo censurato nessuno in alcuni casi c'era un trasporto eh maggiore per varie ragioni non per forza di vicinanza anche appunto maestro allievo o personale in alcuni casi c'era un trasporto maggiore in altri c'era una maggiore così eh distanza ma quello che importava era esattamente eh mi è piaciuta molto una cosa che ha detto Anna Dolphi cioè questi cinquantadue sono dei campioni che possono stare anche per altri che sono magari ingiustamente esclusi che però eh ricapitolano eh le possibilità eh non solo ciò che noi siamo non solo ciò che quasi tutti noi abbiamo imparato ma anche le possibilità di ciò che avremmo forse potuto essere e che per varie ragioni forse ora non siamo perché una cosa a me colpisce molto eh di questa generazione o ha ragione Pietro di queste due generazioni o di questo passaggio generazionale dal venti al quaranta ed è la straordinaria curiosità e varietà eh faccio un esempio perché li vedo qui davanti a me ma potrei farne quindici altri di esempi eh Riccardo Donati e Marco Villa che sono a loro volta fra i migliori studiosi delle loro generazioni rispettive eh parlano di camporesi e eh di Beccaria ora se noi leggiamo i saggi di di Donati e di Villa certo Villa fa il metricologo Donati ha aperture antropologiche multimediali eccetera transmediali eccetera però c'è una forte area di famiglia se tu leggi Camporesi o Beccaria sono due mondi totalmente diversi e potrei moltiplicare gli esempi cioè noi ci siamo tutti formatati e standardizzati sul modello diceva Pietro del paper o di una malintesa scientificità è giustissimo quello che dice Pietro sotto scrivo in pieno sul sull'abbandono del saggio che che non sono solo i crociani che tu citavi ma scendiamo a De Benedetti e via via insomma anche alcuni dei nostri cinquantadue sono autori di straordinari saggi e oggi molti di noi eh faticano ad avere questa questa dimensione ecco una varietà una curiosità una capacità di rischiare qui non sono d'accordo con te Pietro hai ragione sicuramente questa capacità di rischiare era anche data da un contesto socio lavorativo più garantito di quello attuale però eh non è che noi non è che io e te siamo meno garantiti di quanto fossero garantiti eh camporesi o folena insomma e loro sono stati capaci di rimetti di cambiare più spesso di rimettersi in discussione di eh di fare i loro le loro gite a chiasso o a o a Stanford eh più di quanto siamo stati capaci di fare noi eh io credo che questo sia eh uno dei punti di riflessione che possono essere che possono emergere da questi eh da questi micro saggi e qui mi piace moltissimo la definizione vogliono essere non so se poi ci riescono ma vogliono essere micro saggi eh cioè di dare appunto disporre del possibile che forse potremmo con un po' più coraggio percorrere anche noi e credo che abbiate su questo concludo e e lascio la parola perché poi sotto ci attende un rinfresco ma eh ovviamente chiunque eh voglia intervenire è benvenuto e naturalmente potremmo star qui ore eh credo che quella dialettica fra eh voce individuale e storia che avete da punti di vista diversi sottolineato sottolineati entrambi sia decisiva no non eravamo in grado di e non volevamo non ci interessava fare una storia della critica eh ci interessava saggiare fenomenologicamente cinquanta voci che potevano essere quaranta o sessanta o anche solo venti forse ma saggiando queste voci il loro rapporto con il loro contesto e anche con quelle ideologie forti che rimangono è vero rimangono sullo sfondo ma eh agiscono eh cercare di capire se la nostra voce può ancora modularsi su quelle frequenze e e questo eh effettivamente è un po' la sfida e la sfida che vorrebbe essere anche eh anche ai giovani perché eh insomma quando noi abbiamo smesso qui nel mio dipartimento che io indegnamente dirigo non si insegna la storia della critica ed è un'indecenza perché l'ha insegnata Franco Fortini qui la storia della critica insomma però gli studenti va di più altre cose insomma gli annoi ecco su questo dobbiamo riflettere eh ci condanniamo all' all'inessenzialità eh dimenticando di studiare da dove veniamo e quello che forse ancora potremo fare grazie secondo voi come vorreste che fosse letto questo libro e come pensate che verrà letto questo libro? Diciamo la cosa più ovvia uno lo prende sfoglia e poi dice ah fammi vedere che cosa dice Simonetti di quello lì fammi vedere oppure sperate in una lettura che possa essere appunto integrale o comunque sequenziale vi vi immaginate che i vostri lettori legano il libro dall'inizio alla fine oppure vi aspettate appunto lo tengano lì e poi ogni tanto ci facciano un giro dico velocemente io eh non è l'ha detto Pietro non è un'enciclopedia di medaglioni e non ci interessava fare quello eh ma non per questo è necessario leggerlo tutto a a me interessa che eh che qualcuno che ne legga tre cinque dodici eh per frammenti appunto auerbachianamente riesca a entrare in in quel tutto che era la civiltà della critica italiana negli anni eh che che lungo anche questo che non sono da idealizzare perché poi i germi appunto di micro specialismo di una richiusura nell'accademia eccetera ci sono già in questi cinque in molti di questi cinquantadue quindi senza idealizzare nulla ma eh non c'è bisogno di una lettura completa anche perché appunto in in una certa misura il canone è anche aleatorio ne basta una parte eh se qualcuno leggendo si rende conto che rileggere questi autori rileggere queste rileggere alcuni libri di questi autori ci può dire ancora molto per me il libro ha fatto il suo dovere no sono d'accordo questa è bella eh ovvia ma che così sollecita un confronto tra questa generazione e il presente anche rispetto al mestiere che molti di noi fanno cioè qui sono presenti eh filologi teorici della letteratura storici di varie letterature eccetera e eh il termine critica il concetto di critica è inteso come così eh iperonimos ma sovradeterminato rispetto a tutti a tutti questi eh prima riflessione seconda riflessione il termine proprio anzi il sintagma critica letteraria eh oggi fa nel punto di vista dell'università fa parte di della definizione di uno specifico settore scientifico disciplinare da questo specifico settore sta per scomparire cioè il probabilmente insomma il settore avrà un nome che non comprenderà più la definizione critica letteraria ecco è qualcosa che fa riflettere no insomma rispetto all'operazione non solo operazione che avete fatto voi così bella ma in generale insomma il mestiere che facciamo e cosa di cosa parliamo quando parliamo di critica oggi no eh posso dirti il problema per me per Bart per tanti altri che che cercano di fare questo lavoro appunto anche altrove e e da anni e in contesti che certe volte possono essere abbastanza familiari e intimi e certe volte non lo sono non lo sono o meno ehm è che la critica così come noi la decliniamo cerchiamo quantomeno di declinarla a partire dalla citazione iniziale commetta da Warbacchiano non è sostanzialmente sentita nonostante spesso volentieri si sia esaltata la critica o quantomeno il saggio la forma del saggio e o del micro saggio nel novecento come genere letterario a parte non è più sentita come qualcosa di intimamente letterario cioè ehm il problema è che con l'aggettivo no eh si persa poi la capacità fondante del sostantivo che domina magari in altre discipline ancora la filosofia no che si è data per esempio a fare critica di tutto sostanzialmente però la filosofia si è adattata a fare critica per esempio dell'establishment del commercio del marketing no di tutte le standardizzazioni possibili e immaginabili la critica letteraria una volta che la critica non ha convinto eh diciamo i i ricettori di oggi no di studenti e studentesse di oggi che è letteratura eh ha perso eh come dire un po' la la sua sfida quindi la nostra sfida a partire dalla citazione no più o meno grande avevamo detto all'inizio poteva essere una paginetta no e quasi tutti all'inizio hanno fatto una paginetta e beh era proprio quella di fare un po' godere in questa paginetta almeno quelli che sono inizialmente interessati quantomeno ad assaggiare no questo tipo strano di letteratura e poi poterlo chiamare anche in maniera diversa no non necessariamente magari critica letteraria ma non come dire farne una specie di indice solo un po' passatista hai capito di 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 insomma quello che è brutto è che noi stessi a un certo punto abbiamo ridotto anche la capacità forse della critica letteraria quando a un certo punto che ne so penso all'indice famoso dei nomi dei nostri libri la maggior parte di noi corre all'indice dei nomi per vedere mi ha citato mi ha citato ecco questo purtroppo alla fine capite se 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 uno come me che che pochissimo citato a 50 anni voglio dire e non dovesse più leggere gli altri perché non l'ha citato beh non solo non sarebbe direi un uomo insomma tendenzialmente adulto no ma in grado quantomeno di optare magari per un lavoro come questo per il rischio anche di un lavoro come questo ma anche per la chance che un lavoro come questo può dare a delle persone che come dire assangono dicono se fa male no quindi ma guarda questo no e poi iniziano a leggere un altro pezzo un altro pezzo e magari si ritrovano come dicevi anche tu a leggere magari tutto il libro dall'inizio perché diceva sì leggiamolo tutto perché in fondo quasi tutti i pezzi sono interessanti perché non leggerlo tutto vedere l'effetto che fa che un po quello che dicevi tu prima non più ecco e questo questo interessante secondo me e questa potrebbe essere quindi come dire una sorta di di pietra no al solito lanciata nello stagno poi si vede un pochettino insomma cosa cosa arriva arriva no con le varie piccole onde che questo tipo di relativo pesantore no del libro pubblicato da codlibet eh voilà tengo solo a dire non per fare pubblicità comunque che questo è il numero 42 di una collana che si chiama eh elements che è nata eh eh a Liegi ma che che ha spesso e volentieri coinvolto Siena anche perché uno eh degli studenti dottorandi che avete avuto Gabriele Fichera ne è eh codirettore volevo ricordare lui e gli altri codirettori che sono eh Vittorio Frigerio, Pippo Traina e eh sottoscritto e poi ricordare che molti eh a partire da Perluigi ma anche dei dei collaboratori di questo libro ci hanno dato libri che sono apparsi nella collana più o meno di recente e eh ed è una collana che in quattro anni se togliamo l'anno di Covid ha già totalizzato quarantadue, quarantatré volumi eh in cinque lingue no che che non è male quindi come dire questo libro esce anche in una collana che spezza una lancia in maniera concreta da più anni eh per come dire eh saggi e micro saggi eh pubblicati in francese, in italiano, in inglese, in spagnolo e in tedesco. Grazie. Già che stiamo facendo lo spazio pubblicitario diciamo che nella collana uno degli ultimissimi volumi usciti è quello su Manzoni di Simone Giusti che è lì dietro. Grazie di cuore a tutte e a tutti e soprattutto a Anna Dolfi e a Pietro Cataldi. Grazie.